La mia riflessione ruoterà attorno al tema della povertà, sottolineando due aspetti. Il primo è che purtroppo non c'è nel paese, direi non solo in Italia, non c'è coscienza piena delle dimensioni e della gravità del fenomeno. La seconda riflessione è un po' più complessa, perché per il primo punto significa semplicemente che bisogna aumentare il livello e la capacità di denuncia del fenomeno. Il secondo aspetto è un po' più complesso, e cioè io penso che siamo in una fase in cui tutti aspettiamo che si chiuda la parentesi della crisi. Una specie di attesa che passi questo periodo difficile, complesso, pieno di difficoltà. Penso che sia un errore, questa parentesi non ci chiuda. La crisi ha modificato profondamente tanto...